al giorno d'oggi è difficile da trovare una coppia che funzioni davvero è come essere gemelli, bisogna capirsi, anticiparsi bisogna essere un'unica persona, un unico sicario ma che ne valga due soprattutto bisogna fidarsi l'uno dell'altro perché ricordatevi, la fiducia è quello che conta a presto ascolta, non è che avresti un pezzo da prestarmi? con la mia ho già seccato marcus, sai in caso di problemi certo se vuoi dietro la black lady la black lady fa rumore oh! 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 oh!